Ehi, che c'è? Sei seduto in mezzo alla strada. Allora? Contento tu? La ricreazione è durata anche troppo per oggi. La ricreazione è durata anche troppo per oggi. Tutto bene, signor Mansley? Qua c'è la carta igienica che mi ha chiesto. Grazie. Adesso però mi sento meglio. Molto, molto meglio. Grazie.